Benvenuti, oggi vi mostrerò come io trovo la musica per i miei video Quindi esistono vari modi ma principalmente utilizzo un'applicazione che si chiama SoundCloud Se non la conoscete è diciamo uno Spotify per gli autori meno conosciuti che stanno cercando di emergere Ci sono appunto questi autori che pubbligano queste canzoni che sono no copyright Potete utilizzarle tranquillamente per i vostri video Ma come fare a scoprire della musica bella? Allora io ho usato un modo, ovvero vedo la musica dei youtuber che mi piace Li cerco su SoundCloud perché SoundCloud è un vero e proprio social Ci sono i profili delle... tu ti puoi creare un profilo, puoi ripubblicare una canzone, puoi pubblicare le tue canzoni senza problemi Cercate il profilo di questo youtuber di cui vi piacciono le canzoni e vedete le musiche che gli piacciono Poi comunque SoundCloud dopo che voi ascoltate delle canzoni poi ve ne consiglierà lui Infatti creerà delle playlist, una che si chiama SoundCloud Weekly Che praticamente ogni settimana vi consiglia delle canzoni simili a quelle che voi avete ascoltato Quindi voi più usate questa applicazione più lei vi consiglierà delle canzoni che sono adatte per il vostro scopo E poi per scaricarle effettivamente dovrete, dovete... Io le scarico dal computer, utilizzo MediaHuman che è un programma molto utile appunto per scaricare musica Voi copiate il link della canzone e poi su MediaHuman fate incolla link e lui troverà la canzone e voi la potete scaricare Potete fare lo stesso anche con delle playlist Comunque questo è il principale metodo Poi ci sono anche altri metodi, sempre parlando dello youtuber Andate nel video in cui vi piace quella determinata canzone che magari mette nella intro ad esempio Ci sono alcuni video in cui youtuber mettono la canzone sotto Quindi magari lì siete fortunati pure Ci sono invece alcuni che non la mettono Quindi io utilizzo Shazam oppure qualsiasi altro riconoscitore per i titoli delle canzoni Shazam la parte di video in cui c'è la musica e fatto pure lì la canzone Ah e vi consiglio se utilizzate le canzoni che utilizzano youtuber di non fare che loro pubblicano un video E voi pubblicate un video il giorno dopo con la stessa canzone Vi consiglio magari di prendere delle canzoni che vengono utilizzate in video più vecchi di qualche mese fa Così almeno non dà l'impressione che li stiate copiando Anche se alla fine la canzone è di tutti quindi non esiste un vero e proprio copiare in questo senso Voglio darvi anche dei consigli per quanto riguarda la musica nei video Quindi non voglio finire questo video qua che è stato molto veloce Perché alla fine trovare delle canzoni è davvero molto semplice Per Soundcloud voi più utilizzate l'applicazione Più Soundcloud vi consiglierà altri artisti, altre canzoni, nelle playlist che lei vi metterà nella home Comunque voi più le utilizzate e più le vostre canzoni saranno belle e fatte apposta per voi Mentre per i youtuber semplicemente vi consiglio solo di prendere quella un po' più vecchia La musica innanzitutto non mettetela altissima Cioè non si deve, l'attenzione deve essere su di voi Quando parlate non ci deve essere nient'altro che magari non fa capire all'ascoltatore quello che state dicendo Quindi non sparate l'altissima ma potete anche non metterla nel corso, durante il video Io magari la metto, io faccio così, la metto nella intro Poi fa una piccola dissolvenza, resta un livello per tutta la canzone Poi quando finisce la canzone basta Poi non ne metto più, non ne metto più musica Quindi alla fine la metto solo all'inizio Quando magari il video sta per cominciare così per dare anche un tocco di energia al video Perché secondo me un video senza musica, sì, ci può stare Però lì in quel caso devi essere bravo tu a parlare e mantenere l'attenzione alta La musica durante il video dà anche un po' di ritmo al discussione E quindi può essere anche interessante Però mi raccomando utilizzatela bene e non sparatela al massimo E prima la mettevo pure nell'outro Semplicemente nell'outro potete pure metterla Una cosa utile secondo me è l'outro Però io l'ho levata perché sono un minimalista Ho detto ma a che serve l'outro? Tanto ho visto che nessuno se la guardava l'outro Perché io ho le statistiche Nessuno clicca sulle schermate finali Quindi ho deciso vabbè togliamo l'outro Cioè le schermate finali le metto comunque perché sono utili fino a un certo punto Comunque avete capito un po' come si trova la musica E per questo video è tutto Io vi ringrazio per la visione Noi ci vediamo nel prossimo video